Ciao e bentornati! Come vedete siamo ancora in inverno, ho il cappottino, ma oggi è una giornata meravigliosa, ci stanno dedicando, ci sta arrivando veramente un tempo splendido, so che non piove quindi c'è un po' di preoccupazione per questo, però io ormai sono diventata un po' come la Peppa e quindi se c'è una bella giornata me la godo e poi vedremo. Oggi vi voglio parlare di un punto pronto uso è un punto che aiuta a svuotare la mente, ci sono tante situazioni nelle quali magari abbiamo preoccupazioni, ansie, disarmonie interiori e la nostra mente lavora, non so la vostra ma la mia, lavora, 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 lavora e non smette mai, non mi lascia stare, allora cosa possiamo fare? Certo ci sono poi altri escamutaggi però un punto utile da andare a massaggiare, sapete che io sono insomma sempre su quali punti andare a schiacciare e il punto sono due fasce che sono sul solco delto pettorale nostro, allora ve lo faccio vedere praticamente parte da qua dall'incavo dove c'è l'ascella tutta questa fascia qua bilateralmente quindi anche da questa parte andate a massaggiare anche massaggiando non so 30 secondi per ogni punto sulla fascia, questo può essere utile perché va a stimolare, allora diciamo che tecnicamente è un punto che viene chiamato neurolinfatico perché va a attivare il sistema linfatico perché porti via tossine dalla corteccia cerebrale e anche da un muscolo che abbiamo posteriormente qua che si chiama sopraspinato ma questa è una cosa un po' tecnica diciamo di kinesiologia un po' più tecnica, quello che è è che può aiutare andando a detossinare aiuta anche a pulire un po' la mente, quando la nostra mente è sovraffaticata, quando non so ci sentiamo magari abbiamo studiato tantissimo oppure abbiamo letto, abbiamo lavorato al computer tanto tempo, tanto tempo allora potete andare a massaggiare questi punti, un'unica avvertenza è non massaggiateli se avete la febbre perché andando a lavorare sul sistema linfatico potrebbe andare a muovere un po' troppe tossine quindi alzarla un pochino, se avete voglia conseguentemente questo massaggio potete andare attivare i punti dell'alleviamento dello stress emotivo vi ricordo essere le prominenze dei lobi frontali sono questi due punti qua quindi massaggiate questa fascia e questa fascia e poi state due minuti con la mano sulla fronte spero di esservi stata utile vi ringrazio di avermi ascoltato e come sempre grazie alla vita